Luca, Vitali, Playmaker, presente, futuro e sogni da conquistare, è una società speciale sicuramente, parte di persone speciali, Matteo, Graziella, Mauro, Sandro, tutti quanti, rappresenta la parte migliore della mia carriera e puntini puntini. Consolidarsi a questo livello in cui siamo cresciuti e continuare a sognare, penso sia la cosa più importante quando giochi a basso. Sono contento, è lusingato, mi fa piacere, secondo me è un bel impegno, è un dovere abbracciarli alla giusta strada per avere la possibilità di inseguire un sogno che è quello che possono avere di diventare un giocatore di Serie A, della nazionale, di alto livello. Non hanno bisogno di messaggi se non Madonnina dai riccioli d'oro.